Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Giancarlo Giorgetti, ordine del giorno 35, favorevole. Marroni, c'è il parere contrario. Onorevole Marroni, prego. Sì, Presidente, pure col parere contrario auspico che in questo ordine del giorno, per quanto riguarda una correzione della riforma, per quanto riguarda la scelta monocratica del dirigente scolastico, del reclutamento dei docenti, possa essere modificata e comunque è stato assorbito questo testo anche dall'ordine del giorno 109 e quindi lo ritiro. La ringrazio. 37 nastri favorevole. 38, 39, 40, 41, 42, 43. Riformulazioni sono tutte accolte. Passiamo al 44. Taglia la tela. Contrario. Votazione aperta. Costantino. Colonnese. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo adesso al Meloni, 45, con riformulazione, ma non viene accolta la riformulazione e quindi a questo punto lo poniamo in votazione con il parere contrario. La votazione è aperta.